Dopo le restrizioni tornano a rinfoltirsi i cartelloni estivi anche in provincia di Teramo che quest'anno potrà contare su un nuovo atteso evento. Nelle giornate del 30 e 31 luglio si terrà infatti il primo memorial dedicato a Luciano Crescentini organizzato dall'Associazione Culturale Demos di cui proprio Crescentini fu fondatore dieci anni fa. Io ringrazio e saluto i miei prossimi ospiti ovvero il professore Carlo Di Marco, docente merito dell'Università di Teramo e presidente dell'Associazione Culturale Demos di Giulianova. Buongiorno, grazie anche ad Amedeo Marcattili, già segretario provinciale per la provincia di Teramo della funzione pubblica CGL. Buongiorno anche a lei. Ecco, io vorrei partire con voi visto che immagino eravate legati anche da un legame di amicizia con Luciano Crescentini, dal ricordo di questa figura così importante per Giulianova e non solo. Professore. Sì, grazie innanzitutto per il pensiero di Vera TV in questa occasione molto triste perché lei giustamente ricordava che noi due eravamo profondamente legati a Luciano Crescentini da un rapporto affettivo che certamente è stato interrotto bruscamente dalla sua morte precoce. Nello stesso tempo Luciano Crescentini aveva ricoperto soprattutto nella città di Giulianova un ruolo politico e morale, mi permetto di sottolineare questo aspetto, di grande rilievo. Io e lui abbiamo fondato l'associazione Demos oltre dieci anni fa e abbiamo lavorato fianco a fianco per portare avanti le iniziative che questa associazione si prefigge e c'è stato un rapporto costante anche fuori dall'esperienza dell'associazione, nell'esperienza politica sia con me che con Amedeo. Luciano Crescentini ha condiviso un'esperienza politica iniziata nei primi anni 70 nella sinistra extraparlamentare, poi sviluppatasi in maniera un po' differenziata, ma sostanzialmente ricadente sempre nello stesso alveo della sinistra. Luciano Crescentini ha poi proseguito la sua esperienza politica e ha svolto un'attività importante nell'amministrazione comunale perché è stato assessore alla cultura nell'amministrazione Mastro Mauro, è stato consigliere comunale fino alla precedente legislatura ed è stato un punto di riferimento, dicevo prima morale, perché Luciano, su questo poi non vorrei aggiungere altro sulla sua persona perché credo che Amedeo abbia anche lui tantissime cose da dire, la figura morale di Luciano Crescentini. Ho sempre detto che Luciano a Giulianova ha sempre rappresentato la buona politica, la politica moralmente corretta, la politica quella dei cittadini, delle persone, la politica aristotelica, quella che è appannaggio del popolo sovrano e che è esercitata dai partiti come strumenti del popolo sovrano. Luciano Crescentini era tutto questo e per noi questa perdita è stata davvero una grande perdita, una perdita enorme per tutta la collettività giuliese. Ecco, tra l'altro di questo legame così profondo se ne ha contezza anche ascoltando le sue parole, profondamente commosso la vedo, anche perché voglio dire la sua scomparsa è avvenuta di recente, proprio nel febbraio di questo anno. Vorrei rivolgermi al dottor Marcattili appunto per un ricordo, chi era Luciano Crescentini, chi non ha avuto modo di conoscerlo, il professor Di Marco ce ne parlava come una persona appunto che si è spesa per gli altri, che ha utilizzato la politica come uno strumento per servire la cittadinanza. Luciano, oltre alle cose che ricordava Carlo, c'è un tratto del suo essere che secondo me deve essere sottolineato. Luciano era una persona molto capace intellettualmente in tutti i campi, spaziava dalla musica, alla politica, alla letteratura, al teatro, però nello stesso tempo era una persona molto umile, nel senso che non ha mai fatto trasparire nel suo modo di vivere con gli altri la sua grande capacità, e la sua grande cultura. Io credo che questo sia un tratto di Luciano Crescentini che abbia percorso tutta la sua vita. Io ho conosciuto Luciano, avevamo come ricordava Carlo, militavamo in gruppi extraparlamentari di sinistra negli anni 70, poi siamo entrati quasi in contemporanea con la Federazione Giovanile Comunici Italiana, abbiamo fatto tutto un percorso politico insieme, poi nel fine anni 90 ho dedicato la mia attività politica anche più nel sindacato che nei partiti, però Luciano è sempre rimasto come punto di riferimento di tutto, anche giovanile, Luciano pur avendo un'età come la mia, 60-64 anni, Luciano era molto ricercato anche dai giovani di Giuliano, perché aveva questa grande capacità di spaziare nei vari ambiti, per cui credo che bene fa l'Associazione Demos a ricordarlo proprio in un tratto della sua vita che è la musica, che è stato il suo amore e quando si parlava con Luciano di musica si apriva un orizzonte. Poi peraltro in un anno e mezzo così difficile anche per il settore della cultura, dello spettacolo in generale, questo appuntamento, questa chermessa assume un valore aggiunto, no professore? Sì, un valore aggiunto proprio partendo da quest'ultima caratteristica che Amedeo sottolineava e cioè l'amore per la musica di Luciano Crescentini, Luciano era un appassionato del prog rock ma la sua cultura era talmente ampia che tutti i generi musicali lo interessavano, lui aveva costruito insieme al compianto fratello Danilo che morì giovanissimo, che aveva anche questa profonda cultura musicale, aveva creato un vero e proprio museo della musica che oggi è stato ereditato in un certo senso dall'Associazione Il nome della Rosa che ha creato una stanza intestata a Luciano Crescentini, questo profilo della passione musicale era qualcosa di caratterizzante, Luciano sapeva tutto, sapeva tutto in tema di prog rock, ma anche di rock, di musica classica, di musica jazz, ecco perché abbiamo pensato ad una kermesse, abbiamo pensato ad una kermesse nella quale far esibire tutti i gruppi territoriali, tutti i gruppi giuliesi, ma anche di altri centri della provincia, perché Luciano li conosceva tutti ed era conosciuto da tutti questi gruppi, non è un caso se ho mandato e avete appena mandato in onda una foto di Luciano con Franco Mussida, chitarrista della PFM, perché Luciano seguiva questi gruppi, ci invitava a seguire i loro concerti, ogni qualvolta le orme per esempio che erano la sua grande passione, ogni volta che le orme venivano nel nostro territorio lui faceva propaganda per invitarci ad andare, noi ci andavamo insieme a lui, questo è Franco Mussida, questa caratteristica di Luciano l'abbiamo voluta valorizzare, mettere a frutto e anche questo legame con i giovani che aveva, poco fa ne parlava Amedeo, i giovani lo cercavano, anche i più giovani per chiedere consigli musicali, perché Luciano se ne intendeva, sapeva tutto ed era una fonte di conoscenza musicale davvero importante, ecco perché abbiamo pensato a questa Kermesse di due giorni, dico francamente dalle richieste che già stanno arrivando che non so se ce la facciamo in due giorni, può darsi che dobbiamo aggiungerne uno, perché essendo una Kermesse libera alla quale possono partecipare tutti i gruppi che ritengono opportuno fare un omaggio a Luciano Crescentini e tenendo conto che i gruppi quando si esibiscono bisogna dargli anche la soddisfazione di suonare per un po' di tempo, non si può fare meno di 20 minuti per esempio, altrimenti non avrebbe senso e in questo caso non so se ce la faremo in due giorni, bene, noi saremo ben felici di aggiungerne degli altri, credo che se Luciano fosse qui sarebbe fiero di questa nostra iniziativa. Per parlare un po', lei ha già specificato che non ci sono dei limiti, tutti possono partecipare, purché si tratti di gruppi? Tutti i gruppi possono partecipare, sia giovani formazioni che formazioni meno giovani, non abbiamo fatto una selezione senior o junior perché non ci sembrava opportuno, tenendo conto che la concezione che aveva Luciano della musica era totale, era completa, era a 360 gradi e non faceva distinzioni, lui amava i giovani gruppi emergenti come amava i professionisti, amava i non professionisti che però hanno la passione della musica e li amava tutti, per cui non abbiamo fatto né una gara, non è una gara, è una kermesse, cioè una rassegna di tutti coloro che si vogliono esibire in onore di Luciano Crescentini, per cui si possono iscrivere, abbiamo messo un minimo di regole per organizzare meglio chi vuole partecipare. Noi abbiamo preparato anche una grafica, scusi se la interrompo così, mentre lei ricorda come dire le modalità di partecipazione dalla regia ci possono anche aiutare per quanto riguarda insomma un po' di contatti utili, no? Certo, c'è una direzione artistica, una direzione artistica formata da me, dal maestro Enrico Robufo e dal maestro Armando Ianni, questa direzione artistica riceve le iscrizioni che devono arrivare su quell'indirizzo di posta elettronica, ne abbiamo messo uno solo per non creare confusione, l'indirizzo di posta elettronica è quello dell'Associazione Demos, associazione culturale Demos 1652, chiocciola gmail.com e devono arrivare entro il 19 luglio, in maniera tale che noi possiamo in qualche modo organizzarli, non selezionarli, oddio un minimo di selezione, abbiamo chiesto un MP4 con una esibizione, non tanto per escludere qualcuno, quanto per non degradare un po' potrebbero iscriversi persone che non sanno mettere le mani sugli strumenti, potrebbe essere un qualcosa di questo genere che finirebbe per degradare un po' la qualità dell'evento che invece noi riteniamo debba essere di una certa qualità, quindi non è una gara, tutti si possono iscrivere, avranno il loro spazio che indicativamente è di circa 20 minuti, perché dico indicativamente? Perché dipende da quante persone entro il 19 luglio si iscriveranno, se avremo bisogno di un altro giorno lo comunicheremo, potremmo aver bisogno anche di altri due giorni, dopo il 19 vedremo come organizzare meglio questa kermesse, certo è che chiunque si iscrive avrà il suo spazio idoneo per potersi esibire. È la prima volta che viene organizzata una kermesse di questo tipo, immagino più di 10 anni di storia dell'Associazione Demos, avete fatto molto per la cultura? È la prima volta che si organizza una kermesse di questo genere, ma l'Associazione Demos fa cultura da 10 anni, cultura popolare, cultura della partecipazione popolare e ha organizzato eventi in passato a Giulianova come una rassegna fotografica per due anni di seguito, che purtroppo l'anno scorso non abbiamo potuto riorganizzare per via del Covid, ma quest'anno abbiamo dovuto purtroppo pensare a questa iniziativa a, come dire, in qualche modo a guzzare l'inventiva per la perdita di Luciano. Noi questo appuntamento vogliamo che diventi un appuntamento annuale, tant'è che lo abbiamo chiamato primo memorial di Luciano Crescenti. Segno che ce ne saranno sicuramente anche degli altri. Lei ha introdotto un tema che peraltro credo sia anche di grande attualità, lo sia sempre, quello della partecipazione, del coinvolgimento, che passa attraverso vari canali, c'è nella politica, ma c'è anche nell'attività svolta dalle associazioni per promuovere la cultura nelle sue varie forme. Ecco, com'è cambiata la partecipazione nel corso degli anni, visto che voi avete, come dire, anche un percorso personale nell'attività politica della vostra città. A oggi ce n'è meno, ce n'è più, i giovani sono più vicini, partecipano di più, gli strumenti sono diversi, prima si facevano degli incontri, le piazze erano le grandi protagoniste. Quest'oggi la vita si svolge un po' più nel mondo virtuale, quindi anche il tessuto delle relazioni, dei rapporti, lo scambio, le informazioni vengono veicolate su canali diversi. Certo, lei ha affrontato diversi argomenti importantissimi, la partecipazione è sempre più un bisogno dei cittadini, noi ci accorgiamo nella nostra attività organizzando forum, focus graph, organizzando sondaggi deliberativi, organizzando tutta una serie di strumenti di partecipazione popolare, ci accorgiamo che laddove i cittadini si accorgono, questo è un fatto che così da professore di diritto pubblico e da studioso delle tecniche e delle modalità di partecipazione popolare non posso che sottolineare, allora che i cittadini si accorgono che non ci sono di mezzo i partiti e che loro possono contare veramente, anche solamente sotto il profilo partecipativo, cioè consultivo, posso dare la mia opinione, posso esprimere quello che penso di una determinata scelta politica e quello che penso viene preso e valorizzato e preso in considerazione, i cittadini arrivano, vengono, perché devono essere rassicurati da questo punto di vista, devono essere cioè rassicurati del fatto che sulle iniziative partecipative non ci sia la strumentalizzazione partitica, questo è un aspetto importantissimo, allorché riusciamo ad organizzarle come il forum cittadino svolto a Giulianova nel gennaio del 2020 sulla riqualificazione di Piazza Dalmazia per esempio, come il forum cittadino che stiamo organizzando ad Ascoli sull'esternalizzazione dei servizi di biblioteca, come il sondaggio deliberativo sulla riqualificazione dell'area circostante il teatro romano a Teramo, come il forum cittadino che a breve avrà luogo sulla riqualificazione di Piazza Dalla Chiesa a Giulianova, tutti questi strumenti servono per offrire ai cittadini un'opportunità di poter contare, l'opportunità di poter contare, di poter dire la loro, di potersi esprimere e soprattutto di potersi esprimere in maniera informata e consapevole attraverso un percorso culturale che precede ognuna di queste iniziative. La partecipazione per rispondere alla sua domanda è un bisogno, ma io aggiungo da costituzionalista la partecipazione è un obbligo politico e morale di tutti i partiti politici, i partiti politici sono nati per questo, i partiti politici dell'articolo 49 della Costituzione sono nati per promuovere la partecipazione dei cittadini alla politica, alle attività politiche, alle scelte politiche, queste sono le cose che noi abbiamo in qualche modo focalizzato in dieci anni di attività dell'Associazione Demos. Vorrei coinvolgere anche Marcatili su questo punto, perché insomma, sendo stato segretario generale per anni della funzione pubblica della CGL ha rappresentato una delle principali sigle, quindi il tema della partecipazione, in questo caso dei lavoratori e delle lavoratrici centrale. Sì, sicuramente, io senza essere di parte, però credo che le uniche organizzazioni di massa che sono rimaste nel nostro Paese sono le organizzazioni sindacali, dove c'è una vita democratica all'interno, al netto di questo periodo della pandemia e dove c'è una partecipazione alle iniziative del sindacato che purtroppo non si riscontra nei partiti politici. La nostra Costituzione si fonda sui partiti politici, sui partiti, cosa che purtroppo negli ultimi anni sono diventati sempre più o partiti personali o comunque dei comitati elettorali. Io credo che la partecipazione del cittadino e la partecipazione del lavoratore nelle scelte di qualsiasi governo sia a dirigere questo Paese sia vitale e purtroppo quando questo non succede, quando questo non c'è, vediamo che comunque possono sorgere determinate situazioni non democratiche e non belle. Allora io credo che, come diceva Carlo, la partecipazione è un diritto dovere di ogni cittadino, il problema è che bisogna dargli gli strumenti affinché poi quello che quello cittadino, quel lavoratore dice venga presa sul serio, perché altrimenti diventa una cosa che comunque poi non ci si crede più. Ecco, è giusto essere informati per sviluppare un pensiero critico, professore, e poter poi contribuire, è un presupposto fondante questo? Il pensiero critico, ho cercato di esprimerlo poco fa, ma mi piacerebbe approfondirlo in due parole, il pensiero critico è che i partiti politici sono sì al centro della nostra democrazia, ho citato l'articolo 49 della Costituzione, dove però i partiti politici appaiono come uno strumento, che sia chiaro, basta leggerlo l'articolo 49, sono due righe, i cittadini possono organizzarsi in partiti politici per concorrere con un metodo democratico alla politica nazionale, c'è un soggetto e c'è un complemento, il soggetto sono i cittadini, il complemento sono i partiti, i partiti quindi sono uno strumento del soggetto, è scritta in italiano la nostra Costituzione, è stata controllata anche da un punto di vista della lingua, del modo di scrivere, perché sia la più bella del mondo e lo è, questo è l'unico punto in cui in Costituzione si parla dei partiti, in senso sostanziale, poi non se ne parla più, perché al centro della nostra Costituzione non ci sono i partiti, sono le persone, i cittadini singoli e associati, che possono associarsi anche in partiti politici per concorrere con il metodo democratico alla politica nazionale, questo è un pensiero critico che io espongo ai partiti che invece sono diventati soggetti, prima ho detto c'è un soggetto e un complemento, i partiti sono diventati soggetti, i partiti sono diventati proprietari privati della politica e gli oggetti sono diventati cittadini, lo diceva Amedeo poco fa, i partiti purtroppo sono diventati dei comitati elettorali nella migliore delle ipotesi, dei comitati di affari nella peggiore delle ipotesi, quasi tutti, non dico che sono tutti diventati così, la grande maggioranza dei partiti oggi nascono e vivono, unicamente dopo aver fatto dei calcoli sul numero di poltrone che si possono occupare nel momento in cui si decide di fondare un partito, questo è purtroppo ciò che è accaduto, il pensiero critico che lei mi chiede è rivolto ai partiti, dovete rinnovarvi, dovete tornare ad essere quelli che sono stati i partiti dell'Assemblea Costituente, che sono stati i partiti del Comitato Nazionale di Liberazione, che sono stati i partiti del primo ventennio, del primo trentennio della storia della Repubblica, quei partiti che furono premiati nel 1948 quando i cittadini andarono a votare quasi al 90%, oltre il 90% andarono a votare e fu un premio che fu dato a quei partiti che avevano creato la Costituzione nell'Assemblea Costituente, fu un premio popolare che fu dato quella partecipazione, oggi a votare ci va il 50% degli eventi di diritto, non è che si sono allontanati i cittadini, non si sentono rappresentati, di solito la risposta è sempre quella, io non riesco a sentirmi rappresentato da una delle voci che si presenta a uno dei partiti, piuttosto che l'Iste se parliamo di comunali o di regionali. Siamo purtroppo in conclusione del nostro spazio, vorrei ritornare un po' all'argomento principe di questo appuntamento di oggi, ovvero il primo memorial dedicato a Luciano Crescentini, vogliamo ridare nuovamente le G.A. tutte le indicazioni rispetto alle modalità per poter partecipare a questa kermesse musicale, ancora una volta volendo inviando un'email all'associazione culturale demos1652.com oppure contattando telefonicamente uno dei numeri, dei componenti del direttivo dell'associazione, li vedete in sovraimpressione e poi anche attraverso il vostro sito, l'associazione demos Giulianova, ci saranno tutti i riferimenti utili. Occhio la penna perché il 19 luglio è il termine ultimo per presentare la propria candidatura, chiamiamola così, anche se abbiamo detto che trattandosi in una kermesse non c'è... La propria manifestazione di interesse. Esatto, manifestazione di interesse, chiamiamola così. Io vi ringrazio davvero molto, ringrazio il professore Carlo Di Marco, docente merito dell'Università di Teramo e presidente dell'associazione culturale demos di Giulianova, grazie. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. E grazie ad Amedeo Mercatili, già segretario provinciale di Teramo, funzione pubblica della CGL, entrambi ci hanno aiutato a ricordare la figura di Crescentino, una figura che ha fatto molto per Giulianova e che ora la città vuole ricordare e anche ringraziare attraverso il ricordo vivo della sua testimonianza. Grazie a entrambi. Grazie. In bocca al lupo per questo e anche per i prossimi eventi, noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco cambieremo argomento.